ok eccoci qua per costruire lo studio degli occulti qui Eytam rintraccia i movimenti d'ordine degli antichi dallo studio poi accettare le missioni specifiche quindi la cosa che voglio dire ragazzi che sembra molto che la trama occulti d'ordine degli antichi sia una cosa che per realtà è secondaria che possiamo fare quando vogliamo noi quindi ok non mi fa impazzire questa caratteristica però è proprio così sembra quindi vabbè studio creato bene eccoci qua un dono andiamo ragazzi ci vuole offrire un dono andiamo al servizio della luce un valzo della pede eccoci qua che abbiamo portato per fortuna nostra risoluzione. Come la tua meditazione, ci si centra i nostri pensi, si stiavano i nostri hands e si scopriamo il medo da nostri心i. E più inizia, ci si aiuta in movimento, in volare o in stessa. Tu chiamate un'esplice, e stiamo incontrando una piada più pesca. L'esplice è ancora. Il shadow di un'esplice. Nella stessa. Nella stessa. I suspect you mean to throw me from this cliff, is that it? Please tell me if I'm near the mark. And spoil the surprise? To perform the leap of faith, you must give yourself over to something greater. The gods. Yourself. Embrace the hope that death will not come... ...before you are prepared to meet it. Believe this, and you will fear nothing. Our deaths are prefigured, weaved into the fabric of the world. To fear this would be a waste of worry and tears Good Then your mind is already attuned to my lesson I will leap first On my word you must follow Lean into your faith, into your strength And take flight You want me to jump From here Yes I would sooner grow wings and fly away Thank you for the lesson, but... Wait And watch Hytham Hytham Pick-headed fool Are you injured? You see? My face grew stronger than my fear And that loam cushioned your fall Eivor I have not seen this side of you before Do not feed your fear La mia domanda è Ma questa è una sorta di iniziazione? Non ho capito bene questa cosa io Onestamente E lo facciamo Yata, come sempre Ok Purificazione Ok, I see Are you hoping to initiate me? I might try if I believed you would join But that is not my purpose in England Bassem and I are hunting larger prey The order of ancients Yes You remember the medallion you took from Kiotve's body? That is their symbol They are a plague One we hope to purge from this world Like us, they act in secret Ma il suo progetto è regalare il mondo, non evitare l'immaginante. Il progetto di regalare non è unico per questo ordine. Cigar e io vogliono lo stesso. La terra per chiamare la nostra propria, e l'honore che viene con la nostra propria. Non comparevi a così persone. L'ordine non ha un'ottima propria, non ha un'attività, non ha un'attività. Ma ci sono stati sui molti di inglesi di inglesi di inglesi. Se volete pacificare inglesi inglesi per la sicurezza di vostra clan... ...dì, potremmo essere in mio interesse di darevi aiuti. Lo capisco. Voi chiedere gli inglesi. Abbiamo cercato di ridere l'inglesi di inglesi di inglesi di inglesi di inglesi. L'arri che ci sono stati, la nostra causa è anche. Puoi pensare che questa terra è regalata da dei sottotitoli e delle cose scoperte. Ma guardate più profondamente, e potrete un'attività più profonda. La ordine nonostante l'ordine è un'attività. La crea tutto, instillando la sua pezzi di ogni livello della società. Ok ragazzi, adesso facciamo delle riflessioni interessanti appena finiamo di parlare con Eytam. Ok ragazzi, tutto è molto interessante. O di ordine degli antichi si è aperta. È una società segreta di pagani che si è infiltrata in tutti i livelli della società per diffondere la sua visione dogmatica del mondo. Per stanarle è possibile trovare indizi in giro per il mondo. Ok. Seguente. Gli accoliti sono mercenari che assistono all'ordine e ne fanno rispettare i decreti. Trovali ed eliminali per avere indizi sull'entità dei membri dell'ordine. Scoved elimina. Puoi anche trovare indizi stringendo alleanze, esplorando l'Inghilterra e aiutando i bisognosi. Una volta trovati tutti gli indizi su un membro, la sua identità verrà rivelata e sarà possibile rintracciarlo. Gerarchia dell'ordine. I membri dell'ordine seguono un sistema gerarchico. Assassinare un palatino o un prevosto farà ottenere informazioni sul loro maestro e alla fine svelerà l'identità del gran maestro dell'ordine. Ok ragazzi, interessante. Ce ne sono due già segnati dopo Chiotve. E ragazzi, parliamo un attimo di quello che appena è successo. Mentre leggiamo anche la lettera che c'è qua. Praticamente, quello che ci ha fatto Atem è effettivamente un rito di iniziazione. Nonostante ha detto, se tu sei interessato ad entrare nell'ordine, faccelo sapere. Però comunque ti ha fatto questo rito di iniziazione per stringere questa sorta di collaborazione. Quindi tu vai nelle tue zone per fare le tue azioni per il clan, però intanto fai queste attività anche per noi. Tipo raccogli i medaglioni, uccidi quindi i nemici e cerca di sconfiggere l'ordine degli antichi che probabilmente sono anche tuoi stessi rivali. Quindi siamo tipo assodati a livello di collaborazione, ma niente di più. È un po' una via di mezzo, mezza paraculata. Ci può stare, io sarei interessato ovviamente ad entrare anche nell'ordine degli occulti. Però va bene, ok, questo è quello che è successo in pochi parole. Leggiamo però questa lettera, ma è interessante. Lettera per Atem, discepolo Atem. È per te un grande onore poter accettare l'invito del maestro Basim ad espalare il nord Europa per liberare i nostri nemici. Più volte ci hai comunicato, cioè comunque ti vuoi raggiungere il nord a tale scopo. Crede che il momento sia giunto e che tu sia il compagno ideale. E il consiglio non intende ad obitare il suo giudizio. Basim ha ottenuto grandi risultati durante la sua permanenza con fraternita. Ci aspettiamo che ne consiga molti altri negli anni a venire. Osserva le sue azioni e segui le sue istruzioni. Ascenderà la grandezza. Opera. L'opprimento oscurità. Serve a luce della speranza. E abbi cura di te. Mentore Ryan. Chi è questo mentore Ryan? Però interessante, bene. Come anche la frase finale che è un po' una rielaborazione di quello che sappiamo di frase iconica. Tanto qua c'è uno per addestrarci. Perfetto. Boom. Così. Ok. Adesso ragazzi ascediamo le missioni e vediamo cosa dobbiamo fare. Perfetto. Grazie.